dal vangelo secondo matteo in quel tempo mentre gesù si allontanava due ciechi lo seguirono gridando figlio di davide abbi pietà di noi entrato in casa i ciechi gli si avvicinarono e gesù disse loro credete che io possa fare questo gli risposero sì o signore allora toccò loro gli occhi e disse avvenga per voi secondo la vostra fede e si aprirono loro gli occhi quindi gesù gli ammonì dicendo badate che nessuno lo sappia ma essi appena usciti ne diffusero la notizia in tutta quella regione quanto fortunati due ciechi che chiedono e vengono immediatamente esauditi e quanto deve essere stata grande la loro fede perché questo miracolo avvenisse a volte i miracoli ci sembrano eventi lontani anni luce dalla nostra esistenza relegati tra le pagine della bibbia ma non documentati nella storia recente e finiamo per incolpare dio di non ascoltarci di essere assente di disinteressarsi alle preoccupazioni dei suoi figli allo stesso tempo però non ci viene mai in mente che la ragione di questo silenzio potrebbe essere legata alla nostra mancanza di fede spesso infatti immaginiamo il miracolo come qualcosa che ci è dovuto senza dover far nulla per meritarlo lo immaginiamo come il modo di manifestarsi di dio in mezzo a noi e non come il manifestarsi concreto della nostra fede in lui il vangelo di oggi ci chiede invece di fare un cambio di prospettiva avvenga per voi secondo la vostra fede dice gesù ai ciechi ed è la loro fede la loro relazione con il padre a permettere il miracolo una relazione talmente bella e coinvolgente che non può essere tenuta nascosta nemmeno dopo esplicita richiesta di gesù i ciechi infatti ne diffuserò la notizia in tutta la regione